Nonostante la pioggia che nella giornata di domenica ha interessato la nostra provincia, gli amanti del tubero più prezioso della tavola non sono voluti mancare alla conclusione della ventitresima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco pregiato di Pergola. Entrata a far parte del prestigioso club dei borghi più belli d'Italia, Pergola ha visto nelle scorse due domeniche un crescendo di pubblico proveniente da tutta la penisola grazie anche al binobio cultura e cucina che ha portato alla visita del museo dei bronzi dorati e degustare le specialità del territorio. Insomma un'altra edizione vincente. Con la cena di qualità si conclude questa ventitresima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco pregiato di Pergola. Un'edizione dei record perché si stima un aumento del 30% dei visitatori, degli amanti del Tartufo. La scelta che abbiamo fatto della qualità è stata una scelta vincente e percepita dai visitatori che hanno notato il rispetto, il rispetto verso il Tartufo, il rispetto per i tanti turisti che vengono qui da noi a Pergola per gustare il meglio della nostra provincia, il meglio della nostra regione e sicuramente il bello e il buono che solo l'Italia sa offrire. Questo è il bilancio vincente della nostra Fiera Nazionale, è uno stimolo per la nostra regione perché creda nel turismo, creda nello sviluppo economico della nostra regione perché questa regione sta facendo poco per valorizzare ciò che di bello ci hanno lasciato i nostri padri. Durante le giornate dell'evento è stato possibile visitare, gustare ed acquistare lungo le vie e del centro storico, le tipicità provenienti dalle 11 regioni d'Italia presenti. Pergola, denominata anche città del tartufo tutto l'anno, offre una produzione annuale di tartufo di grande importanza e qualità, con i suoi 113 km2 di territorio, oltre 40 ettari di tartufaie e 340 cavatori. Quest'anno è un anno che è iniziato con poco prodotto, ci siamo accorti ovviamente che giorno dopo giorno, settimana dopo settimana il prodotto sta aumentando, la qualità senza ombra di dubbio migliora come la quantità, è ovvio che per aspettare quantità ancora maggiori con un prezzo inferiore bisognerà aspettare un pochino più di tempo, però è ovvio che se volete comprare un buon prodotto, il tartufo peggiato di pergola è sempre un ottimo tartufo che volete assaggiare sulle tagliatelle, su un buon piatto di carne, su un buon costino, su qualsiasi altra cosa. Speriamo che ovviamente andando avanti il prodotto sia accessibile un po' per tutti, quindi ci sia una quantità esagerata in maniera tale che anche magari chi non può, tra virgolette, permetterselo, può ovviamente comprare qualcosa per saziarsi e per soddisfare la sua voglia di tartufa.